Sbucciamo due patate piccole Sbucciamo due patate piccole Le facciamo a fettine il più sottili possibili Puliamo lo spicchio d'aglio Lo facciamo a pezzetti molto piccoli Sminuzziamo del rosmarino secco Aggiungiamo dell'origano sempre essiccato Del sale fino Ed il nostro mix di spezie è pronto Se vi piace potete anche aggiungere altre spezie di vostro gradimento Ungiamo una teglia con dell'olio extravergine di oliva Puliamo un bel pezzo di pesce spada E lo adagiamo sul fondo Ancora un goccio di olio Un po' del nostro mix di spezie Ricopriamo il pesce spada con le fettine di patate Ricopriamo il tutto con il mix di spezie Del pane grattugiato Ancora un po' di spezie Un filo di olio extravergine di oliva Andremo ora ad infornare per 25 minuti a 200 gradi Effettuando altri 5 minuti supplementari per la gratinatura delle patate Ed ecco il nostro pesce spada con patate gratinate appena sfornato Come sempre se la ricetta vi è piaciuta Vi invitiamo a lasciarci un like Un commento in fondo al video Ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete Attivando la campanellina di notifica Che vi avviserà ogni qual volta pubblicheremo nuove ricette Alle prossime ricette Ciao a tutti da Margi Grazie 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 Grazie.